Una maiden per tre anni con otto concorrenti al via. Prima fila per Angrae Verinais, Giorgio D'Alessandro Junior, Urania Luis, Sabato di Vincenzo, una sola Paul, Salvatore Borrino Senior, Unisio, Romeo Gallucci, Uma Pupa Antonio Improda, Udogi, Ghetano Di Nardo, Urro Di Azzurra, Raff D'Alessandro e Underground Roa, Vincenzo Lungo, a completare la prima fila. Una Pupa la più giocata paga 1,92 euro. Gioca ancora aperto. Chiusura delle ali. Emerge una sola Paul. All'interno Angrae Verinais a largo Underground Roa. Adesso in tre ad imboccare la prima piegata. Con Angrae Verinais che sta rientrando all'avversario. Poi Giorginio decide di darle il via libera. 13,9 il lancio. Completamento del primo quarto. In 29,8. Subito l'avanzata di Uma Pupa. Uma Pupa a larghe folate raggiunge la battistrada. La va ad impegnare a fondo. E la sopra avanza dopo circa 600 metri di gara. 45,3 il passaggio. Uma Pupa una sola Paul. Angrae Verinais. Così nelle prime tre posizioni. Poi Underground Roa con a largo Udogi. Che gradualmente inizia la risalita. Uno, uno e mezzo gli 800. Uma Pupa. Una sola Paul. Angrae Verinais. Mentre Udogi. Arriva al salchi della battistrada. Che però accelera. Chilometro in uno 16,7. Uma Pupa si trascina lungo i paletti. Una sola Paul. E Angrae Verinais. A tabellone Urania Lewis. Perde qualche battuta Udogi. Di dentro guadagna anche Underground Roa. Tre quarti di miglia in uno 31,5. Una frazione in 14,7. Che serve ad Uma Pupa per prendere una lunghezza. A una sola Paul. Si riorganizza Udogi. Retta d'arrivo. Uma Pupa ancora chiara leader. Prova all'aggancio una sola Paul. La sola Paul fa un timido tentativo. Ma Uma Pupa allunga. E se ne va. Mentre per la seconda moneta. Una sola Paul. Riesce a difendersi dall'attacco interno. Di Angrae Verinais. Per cui l'arrivo probabile ed ufficioso. 5-3-1. Alla seconda di Agnano. Media di 1,16-1. Per la vincitrice Uma Pupa. Una classic photo. E Olga L.P. Di cui Antonio Improda. E' allenatore proprietario. E' guidatore. Che si toglie la qualifica di Maiden. Andiamo a vedere la quota del vincente. 1,87 euro.